Un'intesa importante per tutelare salute e sicurezza dei cittadini sottoscritto a Salerno presso il Salone dei Marmi del Comune un protocollo d'intesa per le procedure di intervento che riguardano l'effettuazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, obiettivo analizzare le condizioni per l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento alle persone con malattia mentale, specificare e definire le funzioni e i compiti dei diversi referenti istituzionali, delineare un modello operativo per la corretta esecuzione delle procedure su tutto il territorio comunale, definire le condizioni che non richiedono l'attivazione di ASO e TSO ma altre modalità operative. Tutelare la salute delle persone in difficoltà e quindi si parte dalla dignità della persona in quel caso che ha bisogno di un intervento sanitario e un intervento che è stato fatto solo a Treviso che va a disciplinare le funzioni delle varie istituzioni chiamate a rispondere sugli interventi di direttamento sanitario obbligatorio e credo che rappresentiamo anche qui l'eccellenza rispetto al resto del Mezzogiorno d'Italia per la capacità che abbiamo di interagire con le strutture sanitarie e di creare opportunità e interventi a favore delle persone.